Sì, io mi scuso, poi dovrò salutarvi pochi minuti dopo avere concluso il mio intervento, perché, come Di Simini sa, dobbiamo parlare alle quattro e mezza, ci siamo organizzati con la mobilità. Direi che quello che è emerso oggi può essere riassunto in queste pochi flash, secondo me, e quindi bruschi, perché tento di riassumere quello che io ho raccolto a questa giornata. Il contenimento del consumo di suolo è un problema estremamente complesso, è un obiettivo estremamente complesso da raggiungere, bisogna entrare nel merito per poterlo perseguire, i numeri servono ma possono essere, come dire, scivolosi, perché possono dimostrare questo e quello. Quello che va evitato accuratamente è un approccio settoriale al problema. Serve la pianificazione, che spesso è individuata come colpevole di certi esiti che non ci piacciono, specie se misurati quantitativamente. Ma probabilmente oggi è emerso che da tutte le parti alla fine viene evocata la pianificazione come la soluzione, come una possibile soluzione, a condizione che sia tutti in grado, generosamente, quindi non perseguendo, come dire, posizioni, chiamiamole corporative per intenderci, anche scientifiche, disciplinari e settoriali, quindi siamo tutti interessati ad una sorta di planning review, cioè una revisione della pianificazione, così come viene chiesto un'attività di project review, i progetti devono essere rivisti, devono essere, forse sono necessari in alcuni interventi, investimenti infrastrutturali, ma vanno rivisti completamente i modi di fare il progetto di queste infrastrutture e, come dire, non perdendo mai di vista l'elevatissima quantità di nessi che agire sull'obiettivo del contenimento e del consumo di suolo mette in gioco. Per esempio uno che non si è sentito per nulla toccare oggi o quasi è il nesso tra il contenimento del consumo di suolo e la crescita e le politiche di sviluppo e la necessità di cui siamo invasi quotidianamente in tutte le uscite della politica, che è quello della ripresa e della crescita. E il programma del governo, che va a concludere la sua esperienza in questa legislatura, si conclude annunciando 47 miliardi di investimento per la crescita. A consumo di suolo zero è impossibile, impossibile. Quindi parliamo intanto di risparmio di uso del suolo e il miglior uso possibile consapevole del suolo per tutti quegli elementi che sono amersi oggi. In primis, ovviamente, il più trasversale dello sguardo sul suolo, che è quello ecosistemico, evidentemente. L'errore da non fare, quindi legiferare serve, c'è un mio piccolo contributo nel rapporto CRCS, aggiungo a questa domanda chi legifera e come legifera. Per esempio, torno sul settoriale, evitare accuratamente di legiferare in maniera settoriale. Come si fa a fare una legge nazionale pensata e incardinata poi al di castero dell'agricoltura? Tradisce una visione settoriale e un taglio netto, semplificatorio dei nessi che invece sono da tenere presenti. Meglio, per esempio, affidarlo al di castero dell'ambiente, per dirne una. Se non a quello delle infrastrutture e trasporti, ovviamente viene considerato, può essere considerato come dell'assassino che è incluso nel romanzo giallo, di cui svelerei subito, perché il 70% del consumo di suolo, Ispra ce lo ricorda sempre, è rappresentato da infrastrutture, sostanzialmente. Il contributo molto interessante di Ispra, d'Altoressa Ferrara, ha, come dire, strammatizzato questa specie di senso di colpa che ci viene un po' caricato sulle spalle a tutti, che ci portiamo dietro, il consumo di suolo è legato alla residenza, perché è soltanto una percentuale molto bassa. Questo per dire che i numeri, i dati sono importanti, ma attenzione a come li usiamo e a quali sono, come dire, le finalità e qual è la generosa attitudine che abbiamo intersettoriale, politica, tecnica e scientifica, per affrontare un problema così complesso. Allora, la legge nazionale, l'atto Senato 2383, vado a memoria, il numero forse non è esattamente questo, i numeri sono invertiti, ma deve essere questo, è lì che giace in Senato. È stato approvato anche con una certa, diciamo, velocizzazione finale alla Camera, è facile approvare alla Camera le cose, è più difficile approvare al Senato e forse chi ha velocizzato l'approvazione alla Camera sapeva perfettamente che si sarebbe arenato al Senato e quindi, come dire, non avrebbe pagato un prezzo politico così elevato ad accelerare l'approvazione alla Camera di un atto che tanto poi si fermava, nel senso che chi voleva a tutti i costi che ci fosse un segnale in un'azione legislativa l'ha trovato nell'approvazione alla Camera, ma chi premeva perché non si esagerasse con un'operazione di questo genere sapeva che poi si sarebbe arenato al Senato. Questo atto legislativo è un atto legislativo, come diceva Andrea, comunque serve, io ho delle forti perplessità, perché è settoriale, è pasticciato sotto il profilo della natura legislativa che, come dire, rappresenta. È un testo legislativo che allo stesso tempo è principio fondamentale, glossario per legge, legge di contenute e discipline immediatamente prevalente e legge delega. È un po' troppo. Cioè un atto legislativo o è di principi fondamentali a cui seguono atti legislativi su materia concorrente come secondo me è il consumo di suolo perché fa parte del governo del territorio, a cui seguono atti legislativi regionali che non devono essere a piacere ma devono essere intelaiati in una legge di principi fondamentali, al massimo può contenere forse un riferimento a una parte delega, penso a quella fiscale. Cioè io penso che una legge nazionale debba essere di principi fondamentali sul consumo di suolo perché è un principio fondamentale del governo del territorio e quindi io vorrei una legge di principio fondamentale sul governo del territorio che contenga un pilastro che è basato sul risparmio dell'uso del suolo e il buon uso del medesimo. Forse potrebbe essere una legge delega nel senso di chiedere al Parlamento la delega per decreti legislativi in materia fiscale che non sono affidabili alle regioni. Noi sappiamo che quando ci sono riferimenti vaghi alla possibilità di trattare in maniera fiscale che non sia dello Stato sappiamo che è un vicolo cieco, una strada cieca, non va da nessuna parte, ma il contenuto della disciplina dovrebbe essere lasciato a legislazione regionale. E io dico di più, il contenuto della disciplina del risparmio e il buon uso del suolo nell'ambito di una planning review di un innovativo governo del territorio dovrebbe essere lasciato affidato per legge nazionale alla pianificazione. Cioè la legge nazionale deve dire che è illegale una pianificazione che non tratta questo, quindi una norma di direttiva diciamo, non ti dico come pianificare, ti dico che la tua pianificazione non può non trattare questo argomento perché è nella illegalità se non tratta questo argomento e se non lo governa entrando nel merito attraverso la pianificazione. E ti dico anche che le leggi regionali devono essere precise e puntuali sotto questo profilo, perché è un tema, dicono il territorio, che funziona se entriamo nel merito, come ci ha spiegato il caso della Puglia, come ci hanno spiegato il caso della Campania, come ci ha spiegato il caso della Lombardia. Cioè bisogna entrare nel merito e capire quel sistema territoriale, quei processi territoriali, perché sono così. La soluzione può essere di carattere morfotipica, come ci ha magistralmente raccontato Magnaghi, ma per esempio è morfotipica ma è poco ecosistemica, ci diceva il contributo della regione Friuli-Venezia-Giulia. Quindi questo per dire che non c'è una soluzione, non può essere il progetto da solo, non può essere il piano da solo, non può essere soltanto l'approccio ambientale da solo, non può soltanto l'approccio normativo da solo, ma vanno messi insieme quei nessi che dicevo prima. Quindi serve legiferare a condizione di non fare casino, scusate il termine scientifico inglese, perché se facciamo confusione noi produciamo degli atti che immediatamente dopo hanno nel cassetto del legislatore un atto che si chiama legge di semplificazione. E la legge di semplificazione in Italia è basata su due pilastri, la deroga e l'outsourcing della responsabilità del controllo sulle spalle di qualcuno che certifica, autocertifica che ha controllato lui, cioè il privato, il professionista, l'investitore, il cittadino. Allora, non mi piace questa deriva, io vorrei che si evitasse, come dire, di fare una legge per raccontarla, molto dura, molto, come dire, che magari risponde alle aspettative delle posizioni più radicali, qualcuna questa mattina si è sentita anche, e che però allo stesso tempo, facendo sapere che è pronto un provvedimento di semplificazione, tiene buoni quelli che sono contro quel radicalismo della legge, dei suoi costruttori, per dire, no? Del resto, la situazione che ci ha raccontato la campagna, che ci ha raccontato Mocia, è lì a spiegarci di che cosa stiamo parlando. E quindi c'è un problema di controllo, c'è un problema di sanzione, c'è un problema di generosità politica, perché tutto questo ha un costo politico. E o ci assumiamo questo tipo di impegni, di responsabilità e di consapevolezza, oppure, come dire, facciamo delle operazioni di facciata, che accontentano questa o quella comunità contrattuale, corporazione, forma di pressione, ma non affrontano il problema nella radice che presenta, che è trasversale, complessa, e la pianificazione è quella generalista, non quella settoriale, è l'unica attività che permette, possibilmente praticando, come dire, una sussidiarietà sostenibile, cioè la copianificazione tra le varie scale di pianificazione di responsabilità di governo del territorio, di produrre attraverso piani strutturali non conformativi della proprietà, quelle condizioni perché la conformazione della proprietà non produca consumo di suolo, non produca atti che poi non vogliamo che ci vengano roccantati dal rapporto di Ispra o dal rapporto di CRCS, che ci spaventano e che ci fanno sentire colpevoli in qualche modo di quello che stiamo facendo. Grazie.